Ma qui in realtà non c'è la corda. Sono l'unico a non essere dotato di corda. La corda era molto semplice. Si sa che sono uova che vanno in beneficenza queste, quindi... Davvero? Quelle della Ferragni? Davvero no. La valla con la beneficenza sono due cose di metramento opposto. Cazzo questo lo vedo due ore a aprirlo? Aspetta forse... No, non ho trovato un cazzo, direi. In modo più semplice non si poteva avere, eh? No, non credo che si sia aperto. Vediamo... Sì, vedete. Chissà cosa sarà in problemina, guarda, proprio non ve lo immagino. Ma hai i colori per la faccia? No, guarda che porta chiavi, va molto provante. Non ricordo cosa l'ho trovato l'anno scorso, ma non porta chiavi. Eccolo qui, lo vedo Tinder. Come faccio così? No, non si rompe. Hai fatto proprio punta. Io voglio. Ma che cazzo lo rompo? Ah, non si rompe. Ah, non si rompe. Ute, non si apre. E' di titanio. Ah, Dio, che devo fare? Eccolo qua. L'uovo carate questo qua davvero. E ci sono niente un po' di meno? I colori? No, questi qui sono i braccialetti, quelli che uso io. Eh, viena. Vabbè, meglio di niente. Eccolo. 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 Uno rosso-nero così e altri due in silicone più piccolini, vedi, quelli che si spaccano subito. Vabbè, carini, sono robe che anche utilizzerei. Adesso non ho sul mio solito, però. Vabbè, sono contento. Ciao. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Ciao.